Bene, allora continuiamo sempre con Terra senza tempo di Peter Colosimo, è l'ultimo libro della serie che tratto, cioè l'ultimo che tratto, ma il primo che è stato scritto, come ho detto, no? Allora ero rimasto, cioè stavo scorrendo l'indice dei capitoli per spiegare gli argomenti che sono all'interno e che appunto tracciano i temi classici dell'archeologia misteriosa, da un lato, e poi parlano anche di specifici questioni che poi non ho trovato molto spesso in altre parti. Oggigiorno certi misteri sono caduti nel dimenticatoio anche da parte di quelli che sembrano interessarsi così a argomenti misteriosi. Normalmente, ho notato, ci si volge molto a misteri puramente inventati, no? Che poi si rivelano essere delle bufale, mentre i misteri veri normalmente non vengono neanche più citati da nessuno. Come appunto quello delle Costellazioni nella Giulia, no? Questo è che appunto il titolo del diciassettesimo capitolo. Sembra che il diciassettesimo capitolo abbia sempre qualcosa di particolare nei libri di Peter Colosimo, forse era un po' superstizioso, che parla appunto di questa questione che non ho trovato quasi mai da nessun'altra parte, che è appunto nella giungla della Mesoamerica, nella regione dove un tempo sembra che siano vissuti gli Olmechi, questo che sarebbero stati il primo popolo civilizzato delle Americhe, il primo popolo precolombiano a costruire una civiltà 3500 anni fa, no? A costruire le prime piramidi e gradini, insomma ad avere una scultura delle città e pare che abbiano appunto costruito queste sfere di pietra nella giungla che sembra che siano disposte come le stelle del cielo, cioè in pratica sarebbe una mappa stellare, no? è quello che, almeno da come ne parla Peter Colosimo, poi bisognerebbe vedere se è veramente così, ma di questa faccenda, di queste strane sfere di pietra che effettivamente sono un unicum in tutto il mondo archeologico, cioè fra i megaliti di tutto il mondo, non ci sono megaliti sferici, la sfera dà l'idea di corpi celesti, di pianeti e stelle, ed è una cosa, insomma, che colpisce, che colpisce. Allora, appunto, anche perché la civiltà olmeca è abbastanza misteriosa, cioè non è questo l'unico mistero legato alla civiltà olmeca, anche perché la civiltà olmeca è quella che ha preceduto quella del Maya, cioè sembra che la civiltà del Maya derivi da quella olmeca e probabilmente anche tutte le altre civiltà precolombiane. Dunque, poi il capitolo 18, i signori della fiamma. Allora, i signori della fiamma sono una leggenda, diciamo, quelle che chiamo leggende non verificate. Non verificate nel senso, non se vi è verificato il, diciamo, il fondamento reale, cioè se può avere o meno un legame con fatti reali, ma che non siano state invece, cioè che esistano realmente queste leggende, nel senso che non siano state inventate di sana pianta da un autore e poi propagate come se queste leggende facessero parte di un folklore, di una tradizione, mentre in realtà sono state inventate da un autore di sana pianta, come è la leggenda degli angeli di Mons, creato da Arthur Machen e poi propagata, sì, fino a diventare, insomma, parte della tradizione, anche se è una pura infinzione di Arthur Machen. Allora, i signori della fiamma, quindi, non so se sono una leggenda che esiste realmente nel Tibet o se invece l'ha inventata Madame Blavatsky o altri balenghi della stessa specie, no, teosofica. Questo non lo so, cioè magari prendendo da un'altra leggenda e rielaborandola. Allora, secondo questa leggenda, diciotto milioni di anni fa, dal pianeta Venere, sarebbe discesa un'astronave, in pratica, no, cioè un carro di fuoco che portava appunto un essere che proveniva da Venere e i suoi seguaci e si sarebbero posati in un'isola che si sarebbe trovata in mezzo a un mare, un mare dove adesso invece c'è il deserto di Gobi. Uno dice, ma sembrerebbe appunto una storia inventata dai teosofi, probabilmente lo è. Potrebbe essere una leggenda che abbia, sì, un fondamento tradizionale, no, che abbia una radice nella tradizione tibetana e che poi i teosofi hanno ampliato, no, come io penso che sia successo appunto anche con la città di Shambhala e il regno di Agarti che appunto hanno preso leggende, qualcuno ha preso leggende tibetane, poi le ha ampliate, viste da un'ottica occidentale. Comunque appunto Peter Colosimo al tempo sembrava dare un certo credito alla possibilità che appunto l'idea che i venusiani fossero venuti sulla Terra molto tempo fa era un'idea che correva al tempo, no. Per esempio anche Quetzalcoatl, il sapete più mato, chiamato Kukulkan da Imaiya, che secondo la leggenda dopo morto sarebbe stato assunto in cielo e sarebbe diventato Venere, la stella del mattino, no. e qualcuno ha, siccome appunto Quetzalcoatl è fra le figure sospettate, diciamo, dagli ufologi paleostronautici, sospettate di essere un alieno venuto a civilizzare le popolazioni americane, allora appunto c'è qualcuno che ha pensato ma magari veniva da Venere, no. Perché, e questo spiegherebbe perché i maia avevano un particolare culto di Venere, a dire il vero, non solo loro, anche i popoli mesopotamici avevano un particolare culto della stella Venere, cioè del pianeta Venere, che per loro era una stella. Perché? Perché è il terzo corpo celeste più luminoso del firmamento, cioè dopo il sole e la luna, in brillantezza, arriva Venere. E di conseguenza gli è dedicato un culto particolare, quindi queste robe bisogna sempre vederle da un'ottica plurima, cioè non bisogna dire... Eh, avevano un particolare culto delle Pleiadi, quel popolo adorava molto le Pleiadi, e perciò in una lontana antichità sono stati visitati da alieni delle Pleiadi. E calma, cioè, possono esserci cento altri motivi per cui quel popolo adorava le Pleiadi, no. Bisogna andarci cauti, come con i crauti. Quindi, proseguendo, capitolo 19, le astronavi di Tiawanaku, no? Tiawanaku è un altro mistero archeologico, e ovviamente lui ci mette dentro gli alieni, perché tendeva un po' a voler vedere gli alieni anche dove non c'erano. Cioè, Peter Colosimo ha senz'altro infinitamente migliori di individui, come von Derniken, come Zikaria Sitchin, soprattutto, no? Ma non è che ci voglia molto per essere migliori di Zikaria Sitchin, anche dallo stesso Mauro Billino, con le sue speculazioni sulla Bibbia. Però, anche lui travalicava ogni tanto, si lasciava andare un po' le fantasie. Più che altro, forse questi titoli sono, vogliono essere un po' sensazionalistici, perché lui era un giornalista, quindi sapeva come fare per attirare l'attenzione dei lettori, no? Bisogna mettere dei titoli che attraggono l'attenzione. Il capitolo XX, I figli del sole, è sempre nell'ambito dei popoli precolombiani, che avevano un particolare culto del sole, poi lui fa i riferimenti con l'antico Egitto, dove anche lì c'era un fortissimo culto del sole, no? Cioè, ci sono degli elementi oggettivi di comunanza fra la civiltà egiziana e le civiltà precolombiane che sono innegabili, ma anche con tutte le civiltà del bacino del Mediterraneo. gli eredi d'Atlantide, cioè la possibilità che le civiltà precolombiane derivino in qualche modo dalla civiltà di Atlantide, anche se quello è già meno credibile, perché c'è un viatus, un lapsus di tempo, molto ampio, perché Atlantide, se è esistita, avrebbe dovuto essere, se è l'Atlantide di Platone, se è l'Atlantide di Platone, avrebbe dovuto essere sprofondata intorno al 9000 a.C., insomma, diciamo, mentre invece le civiltà precolombiane, come ho detto, sono nate solo 3500 anni fa, quindi c'è un lasso di migliaia di anni prima in cui non si sa bene cos'è successo. Possono esserci state delle civiltà? Un po' darsi, ma sono ancora tutte le altre opere e quindi è una teoria un pochettino campata in aria. I miti delle terre perdute, cioè qui credo che parli appunto delle terre che sono state avvistate e poi mai più riviste, che ne ha parlato anche in un altro libro, e l'ultimo capitolo, Crociere impossibili, in cui tratta appunto il tema dei contatti antichi fra le civiltà antiche e continenti che non avrebbero dovuto conoscere, cioè le Americhe, poi magari anche l'Australia e l'Oceania, perché non solo ci sono tracce di contatti fra le Americhe e il mondo Mediterraneo, per esempio i Fenici, gli Egiziani, gli Etroschi e via dicendo, ma anche per esempio in Australia sembra che l'Australia sia stata visitata ricorrentemente da antichi egiziani, no? Perché per i trovamenti avvenuti appunto su suolo australiano e poi anche perché in Egitto ci sono le controprove, cioè si vedono degli egiziani raffigurati con dei boomerang, oppure ci sono cronache che parlano di una terra di là dal mare abitata da genti dalla pelle nera, il cosiddetto paese di Punt, in certe cronache, adesso non so quanto fondate possono essere queste teorie, però diciamo che esistono, sono cose da indagare, e appunto gli egiziani avrebbero avuto dei commerci con questo paese di Punt che forse potrebbe essere l'Australia al di là dell'oceano. Quindi finisco con questo, finisco tutta la tirata su Peter Colosimo, magari qualcuno sarà contento perché si sarà stufato, qualcun altro invece gli sarà venuta la curiosità di sapermi di più. Io ve lo raccomando perché se volete conoscere i temi dell'archeologia misteriosa, sempre con Grano Sales, quindi sempre cercando di trovare le prove, le verifiche, le documentazioni, la riflessione su quanto può essere vera una determinata cosa, quello sempre, sempre, perché i misteri esistono, ma esistono anche le bufale ed è molto facile confondere le due cose. Passiamo a un tema abbastanza diverso, ma non completamente diverso, perché comunque riguarda la storia meno conosciuta, e questo è un libro che sinceramente io raccomando a molti, perlomeno a tutte le persone che sono interessate a, dunque, innanzitutto al rispetto dei diritti umani e poi anche interessati alle culture diverse dalle nostre. tutte le persone che non sono convinte che la civiltà occidentale sia il non plus ultra dell'umanità e che magari anche altre culture e altre civiltà hanno qualcosa da dire su ciò che è giusto e ciò che è buono. Allora, sono quasi alla fine, storia degli indiani d'America di Philippe Jacquin, e le edizioni sono un Oscar Mondadori e qui chiudo. Arrivederci.